Un pacco per te, il Pagante, con il featuring di Lorella Cuccarini. Su Radio Z è venuto a trovarci il Pagante! Ciao, ciao, ciao! Allora, in studio c'è Eddie e da New York Federica e Roberta. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao, ciao, ciao! Beh, Eddie sei di casa. Guarda lì, bella vita, eh! Ma veramente, ma com'è questa storia? Com'è questa storia? Federica, perché siete a New York? Perché noi completiamo quello che va fatto per andare negli Stati Uniti, Edoardo invece rimane lì a nulla fare Milano. Le ragazze lavorano e Eddie non fa niente? Ah, io vorrei un avvocato in questo momento. No, non abbiamo un avvocato. Ma cos'è che è successo? Ce lo puoi spiegare, Eddie? Volete che ve lo spieghi davvero? Sì, sì, dai. In sostanza io avendo fatto il Covid ho il vaccino monodose e gli Stati Uniti non mi accettano. Ah, ecco, ecco la realtà. Vabbè, certo. E scusato, Roby, Roberta? No, secondo me no, perché c'è una scopressione che l'hanno già fatto. Ma mollami, ma mollami. Però scusate, Eddie, non può venire a New York perché è il nostro collega, lui deve fare la diretta e anche speaker nel weekend, o no, Fede? Tutto, è importante, è importante. Com'è, come ti senti adesso? Quella è la tua postazione vera, no? Bene, bene, sto tornando, sì, questa è la mia postazione, sto tornando timido come quando sono ospite in un conduttore, però mi sento a casa qua dentro, eh? Che bello. Io volevo chiedere alle ragazze, fa freddo la New York? Sono le dieci del mattino, però vi vediamo in freddolite, quanti gradi ci sono? Forse adesso sette. Ieri medicava, però ieri faceva molto più freddo. Vedi, vedi, com'è il planning adesso? Che fate? Colazione in qualche locale enorme? No, adesso siamo qua nel nostro hotel e poi oggi iniziamo le riprese del video, quindi siamo un po' in camminare. Quindi lì girate il video a New York? Sì, ma comunque sono in green screen. Io non voglio. Sarebbe il colmo. Questa era la notizia che non avevamo ancora detto, quindi vi abbiamo regalato una notizia fantastica, un segretone. Ma scusate, io entro già nel cuore di questo nuovo pezzo, poi lo discutiamo naturalmente fino alle 16.30. A New York vive Lorella Cuccarini? No, in realtà no. Perché ridono? Che cosa non si può dire? Non è stata nulla, viva Roma. Viva Roma, quindi non c'è nel video Lorella. No, è vero. Possiamo svelare. Ci sarà comunque, certo. Bene, bene, va bene. Allora, partiamo da questa bella collaborazione, no? Eddie, lo chiedo a te. Com'è nata con Lorella? Poi se non riusciamo a approfondirlo adesso lo facciamo meglio dopo Portofino. Esatto, in sostanza abbiamo creato questo pezzo che... era già creato, insomma, con l'idea di avere una collaborazione dentro, una donna dentro e volete che ve lo spieghi dopo? Bravo, sai i tempi radiofonici. Conosco già la... Lo vedi, conosci la situazione. Allora, state con noi anche al 266 del Digitale Terrestre o 735 di Sky, tra poco insieme al Pagante fino alle 16.30, adesso Portofino. Siamo tornati a due stati fa insieme al Pagante, qui su Radio Z alle 16.08 minuti, con Eddie, Robi e Federica da New York. Allora, intanto due volte Platino, Portofino, quindi complimenti, pezzo che è andato tanto. Ricordo che noi come Radio Z eravamo in Puglia e avevamo presentato proprio questo brano. Allora, torniamo a un pacco per te. Ok, in sintesi, c'era il ritornello che diceva serate tecno e meno bublè e a me faceva ridere l'idea di avere una persona adulta che cantasse questa frase, no? Quindi è nata così l'idea della collaborazione. Con Lorella. E come l'avete contattata? L'abbiamo contattata tramite management, credo, non me ne sono occupato io. Però la cosa è andata subito a buon fine, lei ha ascoltato il pezzo, le è piaciuto subito, quindi ho detto sì, facciamolo. Che bello, che bello. In tutto questo... A Roma. A Roma in che senso? Non ho capito cosa... È perché lei abita lì e lo studio di registrazione dove sta lei è lì e quindi siamo scesi, abbiamo registrato insieme a lei. Ah, vedi, e in tutto questo c'è anche un video appunto che state strutturando dove non possiamo dire ma ci sarà immagino un cameo, questo... Sì, 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 cioè non l'abbiamo ancora terminato il video, quindi non possiamo sapere cosa succederà, se ci saranno imprevisti. Che cosa succederà? Tutto questo anticipa poi un album però, vero Eddie? Tutto questo sicuramente anticiperà un album che si chiama Devastante, in uscita il 21 gennaio 2022. Che conterrà naturalmente Portofino, Open Bar, Disco di Platino, Un Pacco per Te... Esatto. E poi ci saranno delle altre collaborazioni, Eddie? Sì, assolutamente, ci saranno diverse collaborazioni con artisti di ogni tipologia musicale, quindi sarà un album abbastanza vario. L'abbiamo lavorato durante la pandemia, quindi ce lo siamo portati avanti un bel po' perché comunque la nostra idea era quella di farlo uscire e poi poterlo suonare, no? Quindi abbiamo temporeggiato, speriamo che l'attesa ne sia valsa la pena. Possiamo parlare di questo, ne parlavamo anche nel Fuori Onda. Voi siete stati, tra virgolette, penalizzati per quanto riguarda anche la chiusura delle discoteche, girate tantissimo nei locali. Sì, sì, sì. Sì, è stato un brutto colpo per noi, anche se quando è arrivata la pandemia comunque arrivavamo da un tour nauseante, quindi per fortuna l'abbiamo sfruttato al massimo, però negli ultimi due anni, insomma, ci siamo un po' annoiati. Ebbè, ovvio, perché il pagante in questi ultimi 5, 6, 8 anni si è spostato dai social proprio alla dimensione live, no? No, e quindi avete sofferto 10 anni quest'anno. 10 anni, certo. A gennaio saranno 10 anni precisi. Ma si fa una festa, ragazzi, ma la fate la festa ai 10 anni o no? Quando si otterrà l'album il 21 gennaio sicuramente organizzeremo un festone per i 10 anni. E vai! E' anche preordinare già l'album, portandomi un po' avanti. Sì, ne parliamo tra poco, perché tra l'altro, se non sbaglio, non rispondetemi adesso, Federica, Roberta, Eddie, c'è il regalo anche una sorta di Christmas box. Esatto. Per chi preordina l'album e quindi lo vuole già. Esattamente, soltanto se lo fate entro il 10 dicembre. Ecco, io non so cosa ci sia dentro, ma magari lo scopriremo tra poco. Settimana Bianca e il pagante su Radio Zeta. Settimana Bianca e il pagante nel nostro collettivo Zeta con Roberta e Federica da New York, di qui nei nostri studi di Milano. Allora, cosa c'è in questa Christmas box se qualcuno fa il preordine di Devastante che è il vostro nuovo album? Allora, su questo argomento sono molto più preparate le ragazze. Ragazze, sono lì con il nostro manager. Ci sentono? Allora, per questa Christmas box arriverà direttamente a casa tua, come dice la nostra canzone natalizia, un pacco per te. Sì. Ah, ok. In tema natalizio. In tema natalizio. Ma non si può dire che cosa. Beh, ostri che champagne. Ostri che champagne e settimana bianca? Ci saranno dei gadget? Su Amazon c'è scritto tutto il contenuto di questa fantastica Christmas box. Secondo me la cosa più interessante che è bello comunicare ora è che ci sarà un pass dove le persone avranno la possibilità di scegliere dal 21 gennaio in poi quale backstage e quale biglietto avere nei prossimi nostri concerti. Bello, questa è una cosa molto interessante. Me l'ero dimenticato. Avete mandato Eddie a mani vuote, cioè anche noi volevamo la Christmas box. Scusa, Fede. Ma in realtà non ce l'abbiamo ancora. No, 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 no. No, 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 no. E' bello perché sembra passaparola. Esatto. Ovviamente noi abbiamo fatto una proposta a Lorella di testo, però lei ovviamente ha voluto mettere becco su determinate cose. Su alcune cose abbiamo dovuto un attimino non litigare, però tipo lei vuole far togliere Tecno, invece no, Tecno si deve dire. C'è la rima con Tecno, no? Quando voi dite pace e un nuovo collier, serate Tecno nemmeno buble. Ma perché lei, essendo un'icona della dance, avrebbe voluto dire serate dance e meno buble, ma dire serate dance fa meno scalpore, no? Perché la dance è una cosa molto più mainstream. Invece ho pensato, dicendo Tecno, sicuramente andiamo un attimo a smuovere qualche meccanismo. Io vorrei sapere solo se nel video, non voglio ritornare sempre lì, ci sarà una coreografia perché Lorella, se vi ha aiutato in qualche modo, ecco. Ragazze? No, in realtà non ci sarà una coreografia perché ormai l'abbiamo fatta anche in vari nostri video, però come abbiamo ripreso un film, The Wolf of Wall Street per Portofino, anche questo video riprenderà un film a noi molto caro. Esatto, a noi piace giocare sulla cinematografia. E si può sapere qual è quello di questa volta? No, bisogna aspettare il video. Va bene, va bene. Era Eddie che ce lo stava per dire. Non diciamo niente, non diciamo niente ragazzi. Invece adesso torniamo alla scorsa estate, c'eravamo tanto divertiti, tra l'altro il disco di Platino, Open Bar, il pagante su Radio Zeta. Allora stavamo chiacchierando anche della copertina, care ragazze, from New York, che ritrae il tempio del calcio. San Siro, è vero Roby? Assolutamente, è stata una scelta di Eddie, però... Immaginavamo. Eddie è un grande interista. Sì, vabbè, ma al di là di questo, posso motivare un attimo. Guarda che noi ti abbiamo preso a Zeta solo perché sei interista, non per altre belle età. No, noi siamo comunque sia un gruppo di Milano e ci piace sempre specificarlo nelle nostre canzoni e nei nostri contenuti. Anche nelle nostre copertine poi, tra l'altro. Esatto, nel primo album ci rendiamo dietro. Siccome essendo un periodo in cui si discute tanto di San Siro, se abbatterlo, se mantenerlo, il nuovo stadio, eccetera, abbiamo detto sarebbe figo farlo con lo stadio dietro. Comunque siamo due interisti, una milanista, siamo tutti appassionati di calcio e affezionati al tempio del calcio, quindi ci siamo studiati un po' questa cosa. Comunque il pagante è sempre più presente nella realtà anche musicale giovanile, quindi smuove già qualche tema importante, no? Mi sembra che la copertina abbia un significato netto, quindi bene. Su questo potremmo fare un ragionamento, visto che ormai siete sul mercato da dieci anni. Come è cambiato e come si è sviluppato anche il vostro pubblico? Cioè adesso queste canzoni si rivolgono al pubblico di dieci anni fa oppure il bacino si è più aperto? Allora il bacino si è aperto sicuramente, oggi proprio facevo questo pensiero, che il primo album l'abbiamo fatto pensando ai liceali, il secondo album pensando agli universitari e questo terzo album è per la gente che lavora. Cioè perché i nostri fan sono cresciuti insieme a noi. Certo. Il prossimo è per l'ospizio. Ma Federica, Federica. Ma guarda, ma che spiegazione è mai questa? Però è vero, dai. Voi come la spiegate invece? Come la spieghereste voi? Ma no, che sicuramente il primo album, certo, era il primo album quindi il nostro pubblico era comunque piccolo. Poi crescendo il pubblico è rimasto sempre lo stesso, quindi è cresciuto con noi e poi abbiamo preso anche un bacino di utenza più grande. Quindi magari... In sintesi era quello che stavo cercando di dire io. È bello perché andate d'accordo. No, ma infatti è curioso di sapere che quando diciamo il successo, tra virgolette, poi crea dinamiche anche complicate, Roby, tra voi tre, mettere d'accordo tre teste e anche immagino la produzione. No, guarda, non dirlo a me che sono le più difficili dei tre. Almeno lo ammette. Come si fa a trovare poi la soluzione, Roby? Ci si trova dei compromessi, non si parla per una settimana. Addirittura, vedi? Io e Roberta abbiamo litigato settimana scorsa e per una settimana non ci siamo parlati. Vedi? No, perché immagino... Non ci siamo parlati, avevamo il ritrovo per andare ad una data col van. Ad un certo punto apre la porta del van e Eddie mi sorride e mi fa ciao Roberta. Eddie, ma chi fa un passo indietro di solito? Di la verità. Io e Federica. Tu e Federica. Ma non è vero. Attenzione, attenzione. No, vabbè, dipende, dipende. Ogni tanto anche Roberta, ogni tanto. Ogni tanto. C'è Cremonini, la nuova stella di Broadway su Radio Z. Eddie lo sa bene, le ragazze credo non benissimo. Io lo temo più che altro. Eddie era preoccupatissimo quando è entrato nei nostri studi perché c'è il nostro game che si chiama Cuccante. Ecco qua. Ecco. È una crasi, giusto Simo, tra Lorella Cuccarini e il pagante alla fine. Come si chiama Eddie? Voi in quanto tempo ne pensate questo? Noi abbiamo una Bibbia a casa dove studiamo la Norte. È un quiz. Faremo una domanda a testa. Inizia Eddie per una questione di studio, ok? Sul mondo della straordinaria Lorella che è uno dei personaggi più amati, dai, dal pubblico televisivo italiano. Partiamo dalla prima domanda. Sì, Lorella inizia a danzare all'età di nove anni frequentando una scuola di ballo molto nota a Roma. Da chi era guidata questa scuola? Gaspar Angiolini, Enzo Paolo Turchi, Brian Garrison. Eddie. Eddie, prego. Allora, sì, sì, mi gioco la prima, non mi ricordo il nome. Gaspar Angiolini? No! No, lo sappiamo noi. Qual è? Diteci, diteci. Quella di Turchi. Bravissima. Perché Lorella stava già togliendo la firma dal contratto. Io volevo fare il ballerino. Domanda per Roby. Quale fu il primo programma TV che rese nota Lorella Cuccarini? Bagaglino, drive-in, fantastico, Roby. Fantastico. Bravissima. La conosci bene. Avete dato le risposte. No, è possibile sta roba. Per il momento sta vincendo Roberta, ma Federica ancora deve rispondere. Allora. Noi siamo insieme. No, 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 no. Un concorrente solo. Ma che è? Grande fratello. Lorella negli anni 80 e 90 è stata scelta per una fortissima campagna pubblicitaria di un brand che vende cosa, Federica? Pentole, acqua, cucine. Cucine. Bravo. Questa è una facile cosa. Attenzione, Eddie, continua la frase. La notte vola all'ombra di un respiro, io ti sarò vicino. Ti sento, dammi ancora un bacino. Ti prego, resta sempre bambino. Ti chiedo non lavare il visino. Dai, che facile. Cos'è sto gioco? Non era così. Devi dire una delle tre. Ti sento. Ai, guarda noi, guarda noi, Monti. No, no, ripetilo un attimo. Ti sento, dammi ancora un bacino. Ti prego, resta sempre bambino. Ti chiedo non lavare il visino. Secondo. Bravo. Ti prego, resta sempre bambino. Per il momento siamo uno pari, ma Roberta può andare sul 2 a 1. Se risponde giusta questa, Lorella ha condotto nel 93 il Festival di Sanremo. Con chi? Pippo Baudo, Marco Columbro, Mike Buongiorno. Vai, Roby, vai. Pippo Baudo. Bravissima. Dai, l'ultimo al volo per Fede, per vedere se pareggia. La scorsa stagione, Lorella è stata anche coach di Amici. Chi era la sua partner nella squadra? Fede. Anna Pettinelli, Arisa, la Celentano. Fede, vai. Arisa. Bravissima. Bravissima. Oh, è solo Eddie, non è... Ragazzi. Lui quando avete scelto Lorella non ha capito neanche chi era, secondo me, è vero o no? No, non è vero. Sono anche più vecchia io. Però hanno vinto 2 a 1 le ragazze contro Eddie, ma ci sta anche una questione di galanteria. Esatto. Come glielo diamo il premio a New York? E glielo spediamo in qualche modo. Così arriva tra una settimana. State con noi, il pagante non va via qui su Radio Z. Tra poco. Club Doggo, qualcosa in mente alle 16 e 34, canzone scelta dagli amici del pagante che sono qui su Radio Z. Eddie, come mai questa scelta? Beh, noi siamo tutti e tre fan dei Club Doggo e ho pensato, voglio far passare su Z qualcosa. Questa è stata una scelta di Eddie? Sì. Eh, potevi sceglierne una anche più corta. No, no, no. Volevo prendere questa apposta perché era lunga. Vedo il carattere della Robby a proposito di carattere. Bella disannunci tu che fai il nostro lavoro veloce, dai. Il pezzo? Club Doggo, dai, dai. Questo qua era qualcosa in mente di Club Doggo, tratto dall'album E-Fist, è un gran pezzone, un culto. Qui su? Su Radio Z. Con Andrea Piscina che non c'è. Esatto, con Andrea Piscina che è dietro la salone. Salutiamo, salutiamo Andrea Piscina. Ragazzi, lo chiedo anche alle ragazze a questo punto, tutti sul nostro profilo Instagram Radio Z Off, tra cui Sara, chiedono dei live. Argomento che già prima abbiamo anticipato perché, tra virgolette, avete dovuto rimandare cose visto la chiusura delle discoteche. Adesso che cosa avete in mente? Adesso abbiamo in mente che siamo già ripartiti a bomba con il tour, quindi saremo... Noi il Natale non lo festeggeremo, cioè saremo 24, 25... Ah, dai. Sì, sì, sì. Bellissimo. Club, ovviamente, club. Club, club, esatto. Anche Capodanno, insomma, non soltanto club, anche qualche piazza qua e là. Certo, certo. Comunque sui nostri social c'è tutto quanto, quindi chiunque voglia può venire a sentirci. Senti Fede, lo chiedo a te, nell'album c'è qualche, come dire, qualche feature in particolare al quale tenevate da anni, insomma, siete stati soddisfatti anche... Sì, sì? Ci sono bei fit, molti bei fit. Dai, dai, vedi. Che collabbo che ci piacciono. In tutto questo non vi abbiamo chiesto perché devastante. Devastante perché, insomma, per tanti motivi, insomma, devastante è uno slang che nel nostro... Nel... come posso dire? O zio devastante. Capito che si usa tanto. Comunque è un gergo pagante, è devastante quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, può essere devastante, anche se è una cosa soggettiva, l'album, l'ascolto, ha tanti significati, diciamo. E beh, certo, come dicevamo prima, è una storia anche legata ai tempi che corrono, il pagante è sempre proprio, come dire, centrale da questo punto di vista. Devastante sia in positivo che in negativo, ognuno poi lo vede con l'occhio che preferisce. E tu come la vedi il fatto che vogliono abbattere San Siro? È devastante come cosa? Sarebbe psicologicamente devastante come cosa. Allora ragazze, prima di salutarci, Fede da New York insieme a Roby, ricordiamo la data esatta dell'uscita di Devastante? 21 gennaio. 21 gennaio, e il video invece, il video di un pacco per te? Prima di Natale, ovviamente. Settimana prossima. Ah, ecco, settimana prossima. Ottimo. Ciao ragazze, from New York è tutto, un bacione. Ciao ragazzi, salutiamo. Ciao Eddie. Ciao, ciao. Ciao a Milano, Eddie. Eddie, noi ci sentiamo in onda, no? Assolutamente, tra colleghi. Perfetto, grazie anche a te Eddie, grazie al pagante e ritrovate naturalmente tra poco l'intervista scaricando l'app RTL 125 Play oppure sul nostro sito radioz.it.